E' andato molto bene perché innanzitutto abbiamo percepito che c'è una forte, decisa volontà da parte di tutte le istituzioni di fare gioco di squadra per tagliare l'obiettivo di Expo in maniera puntuale, l'obiettivo di Expo 2015. Abbiamo anche percepito altri passaggi molto importanti perché qui c'è in gioco qualcosa di più di Expo 2015, c'è in gioco l'immagine, c'è in gioco la credibilità di Milano e dell'Italia soprattutto a livello internazionale. Grazie.